Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale sono Divix, incredibile, è successo qualche cosa perché oggi miracolosamente trovo sui giornali, su tutti i quotidiani sportivi, notizie riguardanti le difficoltà della Juventus nel pagare gli stipendi. Vi faccio vedere anche la notizia sul sito di Calcio e Finanza, eccola qua, Juve trattative con i giocatori per posticipare gli stipendi, dentro c'è l'articolo e parla della trattativa che chiederebbe ai giocatori di spalmare 4 mensilità, 4 mensilità. Quindi non era soltanto l'Inter in difficoltà nel pagare gli stipendi, no perché io sono mesi che continuo a leggere su tutti i giornali, sui social, su Facebook, le presi in giro dei tifosi dicendo che noi non riusciamo neanche a pagare gli stipendi. E io continuo a dirvi, guardate che non è soltanto l'Inter in difficoltà, ci sono anche altre squadre e anche la Juventus l'anno scorso ha chiesto di spalmare gli stipendi, ma non soltanto la Juventus, ci sono tante altre squadre. Ci sono delle mensilità che mancavano anche la Lazio che le ha dovute pagare per non incorrere in penalizzazione perché non aveva l'accordo con i giocatori. Queste cose si trovano soltanto se uno va a cercare, ma caso strano, sui giornali nessuno ne parla. E vi faccio vedere un'altra notizia. Milan verso il Rosso a bilancio dimezzato nel 2021. Arrivano altre buone notizie in casa Milan. Come riporta la Gazzetta e lo Sport, il club rosso-nero renderà a breve ufficiale il dimezzamento delle perdite nella stagione 2021. Si passerà da meno 200 milioni a 95 milioni di quest'anno. Settimana scorsa Zanetti dice che l'Inter farà 100 milioni di euro di passivo e sui giornali viene descritta come una gravità assoluta. L'Inter sta fallendo, 100 milioni di passivo, incredibile. Oggi leggo su Calcio e Finanza che il Milan ha dimezzato il passivo di bilancio da 195 milioni a 100 milioni e il Milan è riuscito a fare questa operazione solamente perché si portava dietro gli sfacieli fatti dalla coppia Mirabelli-Fassone. Quindi non c'entra niente alla pandemia. Quel rosso bilancio è relativo a quelle perdite, quel mercato scellerato. Si riporta a meno 100 milioni, quindi anche loro in una situazione di difficoltà, e invece è presentata come una grandissima notizia. Allora, possiamo fare un pochino di chiarezza? Cerco di farla e cerco di dirvi una volta per tutte cosa sta succedendo. Scrivetevi in qua sotto se ne pensate, leggo i commenti, ma prima di scriverlo guardate il video, buona visione. Intanto, sta esplodendo il gruppo Discord dove vi vedo sempre più attivi e molti di voi mi hanno chiesto di fare la diretta di Juventus Inter. Ci sto pensando seriamente di fare questa diretta perché potrebbe essere l'unica volta in cui vedo Juventus Inter, in tensione perché è sempre Juventus Inter, però con un pochino più di tranquillità legata al fatto che comunque noi non ci stiamo perdendo niente. Al massimo sono loro che si stanno giocando la stagione. Quindi potrei farla. Vi tengo aggiornati, sapete c'è una sezione a parte dedicata alle live, alle date, quindi seguitevi sul gruppo Discord e la diretta eventualmente ovviamente sarà su Twitch. Ci sono tutti i link in descrizione. Arrivando all'argomento del giorno però, che è molto più importante, voglio subito specificare che questo video non è il classico video giornalisti tifosi, giornalisti in verità giornalai. Questo è un video per dirvi che ormai sui quotidiani sportivi quello che viene fatta è disinformazione, fake news, legate solamente ed esclusivamente ai trend. Cioè quello che fa più notizia, quello che fa più lettura, quello che fa più click. Pertanto non si cerca più neanche la veridicità delle informazioni perché non si cerca, si vede a un talomiglio che non c'è neanche una ricerca per andare a verificare che quello che stia scrivendo sia giusto o sbagliato e non c'è nessun interesse da parte dei giornali di far vedere una situazione complessiva ma semplicemente c'è interesse a far cliccare per far leggere l'articolo. Ho già spiegato più di una volta la differenza di come funzionano i primi giornali che tu andavi, compravi la gazzetta, dentro c'erano tanti articoli ma tu vedevi la copertina e basta. E quindi poi, tolta la copertina, dentro c'erano articoli di giornalisti sportivi. Adesso si vive dell'articolo singolo quindi loro devono farti cliccare ogni singolo articolo e devono trovare un argomento di interesse per farti cliccare ogni singolo articolo dato che ormai è tutto online. Questo ha ucciso completamente il giornalismo e ha creato questa situazione, stiamo vedendo in questo momento. Fa tendenza a dire che l'Inter sta fallendo fa tendenza a dire che l'Inter non paga più gli stipendi e allora tutti quanti spingono su questa linea. Sembra che siamo l'unica squadra in crisi in tutta Europa quando nessuno riesce a pagare gli stipendi quando ci sono squadre come il City che dice abbiamo perso Aguero ma non so se abbiamo i soldi per comprare un altro attaccante e quando non si sa neanche quando riusciranno a tornare i tifosi allo stadio e quindi a riportare i soldi nelle casse dei club attraverso il botteghino, gli abbonamenti, eccetera, eccetera. Ragazzi, il calcio è in default. Non ve lo sta dicendo nessuno, ve lo dico io perché se non ve lo stanno dicendo ve lo dico io. Il calcio è in default. Tutte le più grandi squadre europee hanno i costi più altri dei fatturati ed è così da due bilanci, non è così da due mesi, da due bilanci e per recuperare due bilanci in cui si fanno 100-150 milioni di euro di passivo ce ne vuole di tempo perché non è che tu dici chiudi il bilancio 150 milioni di euro passivo ah ok, vabbè, quest'anno è andata, l'anno prossimo andrà meglio no, ci vuole tempo e ci vorrà un grosso sacrificio da parte di tutti i club quindi, prima di tutto diciamo che la situazione non è dell'Inter ma è complessiva la Juventus ha difficoltà a pagare stipendi? Sì, questo non vuol dire che sta fallendo vuol dire che ha difficoltà come noi il Milan ha difficoltà perché ha rossi bilancio? Sì, non vuol dire che sta fallendo ma vuol dire che anche loro sono in difficoltà poi, bisogna capire a livello di liquidità chi è messo meglio l'Inter in questo momento si è esposta tantissimo a livello di liquidità ho fatto un video specifico in cui ve l'ho spiegato molto bene lo trovate sul mio canale e l'ultimo video riguardo al bilancio dei conti dell'Inter ma il problema rimane lo stesso e cioè che i costi in questo momento per tutte le squadre sono troppo, troppo, troppo alti per salvarsi si erano inventate addirittura di sabotare la UEFA creando una Super Lega in cui si sarebbero potuti spartire i soldi fra tutti i big club Super Lega che è stata uccisa dai tifosi ma soprattutto dai giocatori che è quello che io vi ho già detto ho già fatto un video in cui sono rimasto schifato e adesso devo sentirmi dire in una situazione in cui tutti i club sono senza un euro devo leggere ogni giorno le dichiarazioni dei procuratori ho letto quella di Bastoni ho letto quella di Lautaro oh, ma dov'è il calcio popolare? ma non era che noi non vogliamo giocare a Super Lega perché vogliamo giocare in Serie A perché vogliamo che il calcio resti popolare cioè ma non era il 18 aprile siamo il 14 maggio non è neanche passato un mese e questi vanno a battere cassa quando la società dice che non c'è i soldi neanche per pagare gli stipendi quest'anno e vogliono tutti l'aumento questo non è un problema soltanto dell'Inter perché io adesso vorrei chiamare Tony Cross vorrei chiamare Ander Herrera vorrei chiamare i giocatori del Liverpool vorrei chiamare i giocatori dell'Atletico Madrid voglio vedere i giocatori del Liverpool se per caso del Liverpool non va in Champions League voglio proprio vedere cosa faranno se si taglieranno gli stipendi se verranno incontro alla società se rinunceranno ad alcune mensilità cioè questo voglio vederlo con i miei occhi visto che parliamo di calcio popolare perché abbiamo parato tutti quanti di calcio popolare ci siamo riempiti tutti quanti la bocca tutti quanti non io non io lo ribadisco non io perché non faccio quello che viene qua davanti dirvi di calcio popolare e poi dopo due giorni fa finta di niente e adesso siamo di fronte a una situazione in cui le squadre non hanno fatto tutto fare la Super Lega quindi non avranno questo grosso incasso economico derivante a questa competizione sono tutte con le gambe all'aria quindi cosa si fa? si fa che si tagliano gli stipendi o ci facciamo tutti quanti un bagno umiltà noi tifosi perché se vogliamo farci sentire facciamoci sentire anche adesso quando ci sono i procuratori che vanno a battere cassa facciamoci sentire scendiamo in piazza facciamo come abbiamo fatto un mese fa quando eravamo contro la Super Lega facciamolo anche adesso dicendo ai giocatori di tagliarsi lo stipendio che con due milioni vivono uguale non c'è bisogno di otto ma anche con un milione vivono uguale facciamolo adesso alla protesta facciamoci sentire adesso facciamo capire ai giocatori che non vogliamo vedere comunque il calcio a prescindere dalla crisi perché se no se non facciamo così finisce che qualcuno ci rimette l'Inter il Milan la Juventus io non lo so però poi quelli in difficoltà sono tutti i big club sia a livello nazionale che a livello europeo ci sono club che hanno finanziamenti statali dalle banche statali come le spagnole e hanno un debito che è quasi infinito e comunque anche loro sono in grossa difficoltà grossa difficoltà grossissima difficoltà le inglesi sono super indebitate super indebitate quindi non ci facciamo fasciare la testa ai giornali quando dicono l'Inter sta fallendo l'Inter non può comprare l'Inter non può pagare gli stipendi in questo momento il problema è che l'Inter è in difficoltà economica sicuramente come l'Inter ci sono tante altre squadre io guardo in casa mia non faccio un video dove vi dico la Juventus sta fallendo guardo in casa mia e vi dico che come vi ho detto in un altro video non mi aspetto un mercato in cui l'Inter comprerà un giocatore da 100 milioni di euro mi aspetto un mercato dove sicuramente l'Inter dovrà cogliere delle opportunità quindi comprerà qualcuno ma dipenderà tutto dalle uscite l'anno prossimo l'Inter va a una rosa che dovrà essere molto più corta di quella di quest'anno e soprattutto con degli ingaggi molto molto più bassi poi il fatto che l'Inter possa comunque comprare qualcuno vi dico sì se comprerà uno o due giocatori probabilmente saranno anche uno o due giocatori forti ma non possiamo aspettarci che come ho letto nei commenti ah no Vessino deve restare Sensi deve restare Barrella deve restare Brozovic deve restare Ericsson deve restare ragazzi qualcuno deve andare via perché se non va via nessuno non arriva nessuno è molto semplice quindi se Vessino vogliamo tenerlo va via Brozovic se Brozovic vogliamo tenerlo va via Ericsson se Ericsson vogliamo tenerlo va via Sensi qualcuno deve andare via qualcuno deve andare via mettiamocelo in testa prima che poi arriviamo il giorno in cui ufficializzeranno qualche cessione e andiamo a protestare dicendo eh ma non ci abbiamo i soldi abbiamo dovuto vendere qualcuno questa ed è un miracolo se dovranno dei compratori quindi se dovranno dei compratori per dei nostri giocatori che non sono fondamentali come magari Lukaku e questi qua bisogna solamente sperare che ciò accada questo è quello che voglio dare a dirvi scrivetemi qua sotto cosa ne pensate noi ci vediamo domani sera ovviamente per Juventus-Inter vi aggiorno sul gruppo Discord se farò la live durante la partita o subito dopo la gara se non siete iscritti invece sul mio canale YouTube e vi piace il calcio ma soprattutto se vi piace l'Inter iscrivetevi ciao ragazzi